La senatrice a vita Liliana Segre verrà insegnita del sigillo della Regione Piemonte. Il via libera è arrivato dall'aula del Consiglio regionale con approvazione unanime. La proposta è stata lanciata dal consigliere del Partito Democratico Daniele Valle, membro del Comitato Resistenza e Costituzione, e sottoscritta dai consiglieri di entrambi gli schieramenti. Abbiamo deciso di conferire il sigillo della Regione Piemonte a Liliana Segre. In questo momento per noi è importante ribadire la storia tragica che ha attraversato questo Paese in termini di razzismo, di intolleranza, di persecuzione e che non si deve assolutamente più ripetere, soprattutto oggi che ci avviciniamo al giorno della memoria. Ma lo facciamo anche guardando al futuro, quindi per combattere alle future discriminazioni, ai fenomeni di odio, intolleranza che ancora abbondano nella nostra società e che dobbiamo lasciarci alle spalle. Tutto il centrodestra approva la proposta PD di conferire il sigillo della Regione Piemonte a Liliana Segre. Per la grande lezione che la sua storia personale, che si incrocia con la grande storia di tutta l'Italia, rende anche di fronte alle giovani generazioni, perché anche e soprattutto in Piemonte ci furono giusti che la nascosero e tentarono di salvare lei e la sua famiglia dai rastrellamenti, ma anche e soprattutto perché Liliana Segre dimostra che la forza della memoria è tale, soprattutto quando è condivisa. È un atto che unisce e noi piemontesi dobbiamo essere orgogliosi, spiega il presidente del Consiglio Stefano Allasia. Ci auguriamo che i valori e i principi di Liliana Segre siano una guida per le nuove generazioni. Il sigillo può essere assegnato due volte all'anno a persone fisiche, istituzioni, enti e organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento. Liliana Segre è una dei 25 sopravvissuti dei 776 bambini italiani che furono deportati nel campo di concentramento di Auschwitz. A otto anni, con l'approvazione delle leggi razziali, dovette abbandonare la scuola e rifugiarsi in Valdossola, nascosta dalla famiglia Pozzi. Arrestata al confine svizzero il 7 dicembre del 43, fu deportata con il padre in Germania e internata nel campo di Birkenau, Auschwitz. Nel 90, dopo 45 anni di silenzio, ha cominciato un lavoro costante di testimonianza con gli studenti e di partecipazione a campagne pubbliche contro il razzismo, intolleranza e antisemitismo, fino alla nomina nel 2018 a senatrice a vita da parte del presidente Mattarella.